Il riconoscimento del Parco Nazionale della Sila come patrimonio mondiale dell'umanità per criteri naturali è sempre più vicino. E di ieri il via libera del Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale dell'UNESCO. Il dossier passerà ora agli organismi internazionali di Parigi, l'ITER, iniziato nel 2012, quando il Parco, ottenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'inserimento nella Tentative List nazionale. Si tratta di un elenco, riconosciuto dall'UNESCO, conterente i siti considerati candidabili per il successivo innesto nella prestigiosa ed esclusiva World Heritage List UNESCO. Siamo di fronte ad una grande notizia che conferma lo straordinario valore delle risorse naturalistiche e paesi agistiche dell'altopiano silano, ora formalmente riconosciuto, sottolinea il commissario straordinario dell'ente Parco, Sonia Ferrari. L'eventuale inserimento di un sito nella World Heritage List muta la cornice di riferimento di un'area protetta, spiega ancora, ed allarga il posizionamento dal sistema nazionale complessivo di aree protette a piattaforme di rilevanza mondiale. Un luogo straordinario con un valore geologico eccezionale che sostiene da 300 milioni di anni la formazione della costa continentale europea, ricorda invece Michele Laudati, direttore dell'ente. Tiziana Abagnato per la CNews24.